L'Università della terza età Favaro-Veneto è stata costituita nel 2018 staccandosi da un'associazione che operava in maestre. Conta 250 iscritti più o meno. L'attività è quella di un invecchiamento attivo, come si dice nello statuto. Tra le attività abbiamo soprattutto l'attività di insieme. Partiamo dai corsi delle materie più disparate, alla ginnastica dolce, al teatro, alle viste guidate, a musei e a altri siti di interesse. Questo è per offrire ai diversamente giovani la possibilità di essere ancora giovani. Il recapito è quello che vedete alle spalle, UNITER, UNITER come l'Università terza età, UNITER.Favaro, che ho c'ho la libera utile.